Corruzione, falso, truffa e associazione a delinquere. Sono questi i reati di cui dovranno rispondere a vario titolo i destinatari degli avvisi di garanzia in merito all'inchiesta della Guardia di Finanza sugli alloggi popolari. L'inchiesta è partita nel 2012 sulla base di un esposto presentato dall'onorevole Teresa Bellanova e dal consigliere comunale Antonio Rotundo. È stata una doccia fredda per l'assessore al bilancio Attilio Monosi, per l'assessore Luca Pasqualini, per il vicepresidente del consiglio comunale Antonio Torricelli e per l'ex funzionario dell'ufficio Casa Pasquale Gorgoni, quando i finanzieri sono presentati nei rispettivi uffici con un decreto di perquisizione e sequestro a firma dei procuratori Antonio De Donno e Antonio Negro. L'operazione delle fiamme gialle, che ha visto impegnati uomini in borghese, è scattata ieri mattina nelle sedi di Via Lombardia e Via Lerossini, dove ha sede l'assessorato ai trasporti e in piazza Partigiani, presso l'ufficio Tributi. Gli investigatori hanno acquisito documenti e PC, un'operazione piuttosto complessa che ha interessato anche la sede di una società leccese intestata ad uno dei quattro indagati. Secondo la Procura, le quattro figure eccellenti avrebbero indirizzato l'attribuzione di una casa a soggetti che non ne avevano diritto, in quanto privi dei requisiti necessari e non regolarmente inseriti nelle graduatorie stilate dal Comune di Lecce. Monosi, Pasqualini, Torricelli e Gorgoni avrebbero così garantito favori e aiuti per l'assegnazione di case parcheggio, per lo scambio di alloggi e per l'assegnazione di immobili commerciali di proprietà comunale, viziata da probabili favoritismi. Sono assolutamente sereno? Sono queste le parole pronunciate da Tilio Monosi all'indomani del terremoto giudiziario che ha investito Palazzo Carafa. L'assessore difende il suo operato e ribadisce di aver agito in assoluta trasparenza. Rispingono le accuse anche gli altri indagati, Pasqualini, Gorgoni e Torricelli, che ribadiscono di aver agito con onestà e lealtà, fiduciosi che la magistratura possa fare chiarezza in tempi rapidi.